Al Cassero è Natale! Un villaggio fiabesco davvero unico nella fortezza medicia di Grosseto tra le gallerie e i camminamenti del Baluardo Elfi, fate, magia, laboratori la fantastica mostra di presepi e quest'anno anche la Tana del Grinch A dicembre, tutti i festivi a partire dal 2 e poi tutti i giorni dal 21 al 30